Sei bellissima. Attrazione. Mi vuoi? Sì. Desiderio. David? Sospetto. In un attimo si trasforma in un must. Ho perso il controllo. Mi interessa che tu stia all'alarca da Nicole. Paura. Shade! Ormai faccio parte della famiglia. Per il ciclo serial thriller. Mi sto lontano da me! Che cosa ci fa qui? Hai fatto uno sbaglio a dividerci. Paura. Quando i muri si propongono, tra me l'obiettivo... Sabato alle 21. Rispetto! Con Iris. Con Iris.